ciao ragazzi io sono nico di ne sono ritornato con un nuovo video nuova sfida fondazione campionati misti gli stivali delle sette leghe mi raccomando lasciate mi piace inscrivetevi perché mi aiuta tantissimo e vamanos 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 allora partiamo da qua fatelo esattamente come l'ho fatto io così non avete problemi lo potete finire prestissimo quindi di nuovo questo che avevo sbagliato ok sfida che costa pochissimo quindi potete andare a fare tranquillamente e questo è l'ultimo andiamo a prendere il nostro pacchettino ok bello sto pacchettino ancora non possiamo aprirli perché giustamente c'ho alcuni giocatori che eccoli alla prossima volta questi lo posso pure buttare per carità no questo no e questo no questi li butto e andiamo a prendere i pacchetti ragazzi li butto e andiamo a prendere i pacchetti sì sì ok iniziamo con il pacchetto da questa sfida zinco raro vai fammi godere fammi godere insomma ehm no c'è no brazil ma neymar no questo vabbè paulista va benissimo ok corea corea non la uso tantissimo quindi la posso pure mettere da parte ok 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 No questo no Neymar Neymar No questo no Non ci credo Non ci credo Non ci posso credere Ma ce l'ha con me questo gioco Ce l'ha con me ragazzi 12k Mannaggia gli guai Ero tanto contento No non ci posso credere Finalmente Invece non è stato così Pepe e Bailey Nice Vabbè ragazzi Io come sempre vi ringrazio Per aver guardato anche questo video Noi ci vediamo con un prossimo Ciao ciao